Il sorpasso è una manovra che eseguiamo quotidianamente nei nostri trasferimenti su strada. Spesso la facciamo praticamente in maniera automatica e troppo spesso perdiamo di vista alcune semplici norme che renderebbero davvero più sicura una delle principali cause di incidenti stradali. Per affrontare correttamente un sorpasso dobbiamo accertarci che la linea di mezzeria sia tratteggiata e che nei pressi del tratto in cui vogliamo eseguire questa manovra non ci sia un esplicito divieto di sorpasso. Una volta giunti in prossimità del veicolo che ci sopravanza è necessario indicare la nostra volontà di sorpassare con gli indicatori di direzione. È meglio non avvicinarsi troppo al veicolo ma soprattutto terminare l'operazione nel minor tempo possibile. Il sorpasso va realizzato in condizioni di buona visibilità e su tratti rettilinei. Di norma è buona regola non avvicinarsi troppo lateralmente al veicolo che si sorpassa soprattutto se si tratta di un veicolo a due ruote perché questo potrebbe essere disturbato dal movimento d'aria che si genera durante questa manovra oppure anche spaventato dal possibile impatto con un veicolo di maggiori dimensioni.